Che sì, e gioca che sì, insieme a Tonali, verticalizzazione, Milan che si distende in avanti, attenzione, attenzione, accelerazione, tiro, gol, 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 30 secondi e Calabria l'ha messa, la messa Calabria e andiamo 1 a 0. Grande Tonali, non mi leggo il labiale di Gasterini. Grande Tonali, per via centrale, Teo, Teo. Cos'è? Goal! Leao. Goal! Goal! Leao! 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 Meravigliau! Goal! Leao! Leao! Meravigliau! Leao! Leao! Meravigliau! Un gran tiro all'incrocio, alla sinistra del portiere Musso, 3 a 0. Goal! Leao!